ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale della ilma oggi video surprise e mi è venuta in mente non solo perché finalmente ha smesso di fare quel caldo affuso che mi impediva di fare tutto tranne respirare e bere perché respiro senza colgermene e automatico per fortuna e la seconda perché mi era indispensabile bere il video di oggi come avete detto sotto un video sorpresa tratta dei libri che ho iniziato e devo ancora finire prendete la bibita al gelato tutto quello che vi aggrada e preparatevi perché è un pò di roba devo finirla dentro il povere sì ce la faremo io ce la farò voi siete a guardare che cosa combino in più c'è la rubrica di quello che mi piace ascoltare perché voglio farvi partecipi anche di questa piccola chicca se il video se questa tipologia di video a sorpresa dovesse piacervi fatemelo sapere sotto nei commenti che troverò il modo di infilarne qualcuno qua e là così una sorpresa ogni tanto va bene la salute cominciamo con le cose importanti ovvero i libri il primo libro che ho iniziato non ancora finito è la variante di l'humberg di paolo morensink io adoro gli scatti ma non li so ho fatta pagare da mio cugino è il mio pratellino maggiore di sette mesi e capirai però mi ha chiesto una cosa mi sono fatta pagare mi ha regalato una scacchiera lo so carogna solella carogna però funziona per cui continuo così dicevo ho iniziato questo libro che non so se avete mai letto e sono arrivata a pagina aspettate forse non mi ricordo so solo che sono arrivata a un punto all'inizio proprio la preparazione non c'è però la cosa che mi spaventava è che mi sembra che non ci sia che i che siano dei siano più che a capitoli a episodi e quindi sono molto molto lunghi e mi era venuta l'idea che avessi dovuto avere molto più tempo scusate il mio cellulare che nonostante abbia detto non voglio essere il disturbato fa quello che gli pare probabilmente toccato qualcosa che non dovevo comunque questo libro di aspettate vi dico le pagine vi leggo anche la colta di copertina come faccio sempre il resto di copertina veramente 158 pagine vi leggo quello che scrive un colpo di pistola chiude la vita di un ricco imprenditore di disco ho scritto questi libri li avete quelli che vi mostro li avete già già visti in altri book haul però io questi li ho iniziati devo finirli perché basta mollare di cosa a caso almeno cerca di finirli almeno puoi dire no non mi è piaciuto no qui qua eh sì insomma abbiamo ci siamo capiti qui può fare solo in vacanza anche la mia marmotte è in irlanda per cui non sempre dirò cose dirò ogni tanto cose a caso dicevamo un colpo di pistola chiude la vita di un ricco imprenditore tedesco è un incidente? è un suicidio? un omicidio? l'esecuzione di una sentenza? e per quale colpa? la risposta vera è un'altra è una mostra di scacchi però scusate diezzo col gesto si spalanca un inferno che ha la forma di una scacchiera asciutto lucido teso questo romanzo è rivelato Paolo Morensig scusate scusi signor Paolo se ho pronunciato male il suo nome sono dieci euro tondi tondi se volete acquistarlo nuovo anche perché a questo punto acquistarlo di seconda mano non va alla pila altro libro con la copertina conciata malissimo è la bibbia perduta di Igor Bergler non c'è neanche la prefazione non c'è scritto niente perché la sovracoperta è andata a farsi ve ne dire eh? certo non vi dico di che colpa ecco sembra che parli della della bibbia del diavolo per cui sono molto curiosa di sapere di che cosa sia sono 731 pagine scritte anche in grande e io ero arrivata al capitolo 3 se fosse no capitolo 6 lo ricomincio da Papa altro libro altro regalo senza sovracoperta zia mamma di Patrick Dennis se non ricordo l'avevo cominciato anche questo ovviamente e ho regalato lo stesso libro a mia zia per Natale ma non diteglielo perché zia mamma somiglia molto 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 a mia zia a mia zia rosa ma non diteglielo è un tipo simpatico è fortissimo amici sono 380 pagine e l'avevo cominciato neanche quest'anno ma l'anno scorso forse due anni fa ed ero arrivata a zia mamma e l'ora del bambino da cominciare bene arriviamo a un libro in francese di aurore chérie l'intrigon nuove rivelazioni su Luigi XVI anche questo ve l'avevo fatto vedere in un altro video e vi posso raccontare qualcosa nel senso che lo leggo e ve lo traduco istantaneamente per quello che conosco il francese lo conosco abbastanza da capire ma allora Luigi XVI ci sembra ormai così familiare che ognuno si è fatto una propria idea il romanzo nazionale è quello repubblicano o royalista gli ha dato un effigie senza tenere conto della realtà del tempo ma questa volta la storica aurore chérie ha fatto delle ricerche inedite appurando in prima istanza che certe cose non sono state neanche prese in considerazione ci offre così un ritratto estremamente nuovo del re di Francia con delle idee avanguardiste che per un re assoluto cioè vabbè ok ed è la personalità dirompente allora alla luce della rivoluzione ha cercato di trasformare il mondo che lo circondava ovviamente aurore chérie ci mostra come per proteggere per proteggersi da una situazione al suo stile per proteggere la sua famiglia ha cercato di usare la politica mascherando se stesso ovvero ha fatto chiedere ai ai a coloro che lavoravano per lui ai ministri che fosse una persona diversa da quello che era per ottenere esattamente quello che lui voleva ottenere e ci è riuscito ovviamente in parte come sappiamo oppure non lo sapete l'entrano dall'uomo apatico spesso descritto si scopre un re determinato dal carattere forte contrario affonde la politica sul denaro ma usando la dissimulazione e la manipolazione questo nuovo Machiavelli è una persona appassionata e rischia tutto per l'amore di François Beaus la spia protestante a suo servizio la donna che gli ha dato un figlio tra parentesi si esatto al di là di questo affascinante quadro la storiografa la storiografa credo ci dà un 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 quadro completo di un'epoca che resa più vivace e diversa da quella che siamo abituati a conoscere i libri di storia aggiungo io la letteratura la filosofia e la medicina hanno fatto dei passi da gigante in quell'epoca e tutto questo viene ricontestualizzato durante il regno di luigi il sedicesimo che ci rivela tutta la sua modernità e la sua capacità di nutrire le le riflessioni per l'avvenire del suo regno più o meno si è scritto più o meno così e sono avete già capito che aveva un amante dell'innamorato di un'altra donna si e niente non era esattamente quel cretino che ci hanno fatto credere non è il mio re preferito il mio re preferito è Luigi 14 e vi farò vedere anche un'altra sua biografia sempre in francese sono 580 pagine e io ero arrivata a volto capitolo 1 ovvero le disgrazie di questo povero principe francese arriviamo ci spostiamo dalla storia alla poesia con i fiori del male di Baudelaire di cui strano ma vero ma voglio leggere anche la prepazione io la prepazione normalmente la schifo come una peste e invece vai a capire bene perché ho deciso di leggerle dove vi porterà lo saprete nei prossimi video e niente vorrei appunto leggermi queste queste poesie di Baudelaire tra l'altro è un testo del 2008 e siamo nel 2023 magari voi avete un testo un po' più moderne cioè con una traduzione un po' più moderna di quella che ho io ma vi leggo una qualche copertina pubblicate dapprima in varie riviste e poi riunite per la prima volta in un volume che vide la luce nel 1857 le poesie i fiori del male provocavano immediatamente un enorme scandalo tanto da indurre l'autorità a incriminare l'autore e a metterlo sotto processo per offesa alla morale ma se nel 1700 se ne facevano ricotti di cure e nessuno diceva niente vabbè ok frutto in realtà di un'alte sapiente sottile difficile e raffinata la potenza evocativa la profondità tragica e l'apparente cinismo della poesia di Baudelaire potevano potevano infatti apparire un atto ostaggioso e deliberato nei confronti del gusto convenzionale della maggioranza dei lettori del suo tempo decisamente spiazzati davanti all'altitezza di certe descrizioni e all'ostentazione di macabre perversione che punteggiavano l'opera per non ci da rappresentare una semplice provocazione le composizioni poetiche di Baudelaire con la loro impietosa opera di scavo nell'animo umano gettavano invece per la prima volta una luce vividissima fin dagli angoli più tenebrosi dello spirito rivelando il capolavoro di una scrittura passionale e intensa destinata a rivoluzionare l'essenza stessa della lettatura poetica questo tom consta parlo in italiano aulico e come no di 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 373 pagine e in più ci sono anche un sacco di cose che voglio leggere per vedere se ci sono altri libri che parlano di Baudelaire per conoscerlo meglio e niente vi faccio sapere come ho trovato la prefazione e fatemi sapere se volete sapere conoscere la poesia di Baudelaire così magari metto qualcosa sul mio canale Instagram fatemelo sapere nei commenti che ve lo metto cerco di capire come si fa a mettere l'indirizzo del mio canale Instagram sotto nei commenti di YouTube passiamo allora adesso facciamo pubblicità progresso ok cosa voglio perché questa è la fine della prima parte e poi ci sarà la seconda parte si cambia un po' gente allora cosa voglio ascoltare voglio ascoltare l'Overture minuto 112 di Tchaikovsky di cui io Tchaikovsky non so niente e voi mi chiederete perché ti piace la musica classica non l'ascolto spessissimo però la musica classica dal mio punto di vista aiuta le orecchie ad abituarsi a suoni a cui noi non siamo più abituati fondamentalmente chi di noi va spesso a teatro ascoltare un'opera piuttosto che ascoltare un concerto di musica classica pochi rispetto alla moltitudine di persone non credo che siano in tanti per cui l'abitudine ad alcuni suoni secondo me non è così frequente e io stessa amo molto il violino e suono un po' il pianoforte e con un po' intendo proprio un po' e basta stop però mi rendo conto che quando ascolti un brano di musica classica deve ascoltarlo ben più di una volta perché ci sono suoni che il tuo rec al primo ascolto non sente il tuo cervello non è tarato per ascoltare determinati suoni e secondo me è un vero un vero peccato perché abbiamo questa abilità perché non utilizzarla e così abbiamo l'overture sul solenne 1812 opera 49 The Newt Creek opera 71A Ballet Suite e Romero e Giulietta andante non tanto quasi moderato e allegro giusto in tutelare del tempo sono 62 minuti 17 secondi l'orchestra Sofia Festival l'orchestra Julian Kovacev era il direttore dell'orchestra altro CD da ascoltare per me Frédéric Chopin e abbiamo il piano concerto numero 1 e 2 abbiamo l'Allegro Maestoso tenete conto che io tutte queste l'Allegro Maestoso romanzo Larghetto Rondot vivace dell'opera numero 1 opera 11 piano concerto numero 1 piano concerto di pianoforte piano si intende di pianoforte per chi sia completamente a digiuno di qualsiasi idea di cosa sia un concerto di musica classica anche se classica si intende fino a da da Hayden a Beethoven tutto il resto non è non è considerato più musica classica ma pace non è quello il punto e io questi questi termini che definiscono i tempi li capisco fino a un certo punto per cui capite che diventa interessante capire il motivo per cui li hanno chiamati così almeno per me ovviamente fatemi sapere voi allora il primo concerto dura non lo so aspettate sono 21 31 sono 42 minuti 12 secondi invece il piano il concerto di pianoforte numero 2 in sol maggiore opera 21 comincio con un maestoso avanza con un larghetto e finisco con un allegretto vivace e poi arrivo al mio adorato Schubert io Schubert lo amo perché è bellissimo da ascoltare è una coccola che è una cosa wow e di Schubert ho The Great Strain Quartet qui è in francese è in francese in tedesco Tod und das Merchant che non so cosa significhi Rosamunda e in la maggiore è un quartetto di archi credo aspettate allora il cd 1 2 cd nel primo abbiamo la Rosamunda di 304 in do maggiore in do minore e comincia con allegro ma non so prosegue con un andante un minuetto allegro e finisce con un allegro moderato non è esattamente uno spasso in teoria poi abbiamo lo Strain Quartet in fa minore in fa di 810 e comincia con un allegro prosegue con un andante con moto scherzo allegro molto e finisce con un presto totale del tempo 78 minuti e 35 secondi e il cd e il cd 2 e il cd 2 invece ha un quartetto in mi minore di 703 e poi ha un altro quartetto in fa minore di 887 e comincia con un allegro molto moderato prosegue con un andante un po' come moto per cui la confusione per me è wow scherzo allegro vivaccio anche questo perché come complicarsi la vita e poi abbiamo finisce con un allegro assai secondo me la composta a Napoli perché allegro assai dopo di che abbiamo l'altro Tchaikovsky Sinfonia numero 60 di cui non ne ho scritto niente perché ho perso la 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 sua la sua cosa per cui non lo so poi abbiamo Dvorak Dvorak è russo non so è Dvorak per me è Dvorak in italiano scusate ed è volume 1 piano trio in sol minore e il pianista è Joachim trio no il trio è Kim trio sì è il trio di pianisti allora abbiamo un piano trio in A, B, C, D, E F, Dore, Mi fa Sol, A minore Mi tutto minore ma che è opera 65 B, 130 e sono di 41 minuti e 52 comincio con un allegro ma non troppo continuo con un allegro grazioso un poco adagio e il finale è un allegro con brio poi abbiamo la parola novanta che si chiama Damki B, 166 che dura 31 minuti e 42 e comincio con un lento maestoso allegro vabbè vabbè capito sono sempre più confusa poco adagio vivace ma non troppo aiuto andante vivace ma non troppo o poco adagio o andante dovrebbe essere la stessa roba perché cambiare poi abbiamo un andante moderato quasi tempo di marcia allegretto scherzando vabbè poi abbiamo un nove che è allegro e finisce con un lento maestoso vivace capite perché sono confusa dopodiché qui ho di Brahms doppio concerto doppio concerto della filarmonica di Vienna Leonard Bernstein il 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 dietro dell'orchestra e abbiamo concerto per violino violoncello orchestra opera 102 e non mi dice il tempo totale e poi abbiamo un un overture opera 80 accademica overture accademica allora nel primo concerto abbiamo concerto per violino violoncello orchestra in a minore opera 102 concerto per violino violoncello orchestra si aspetta ho capito no scusate ho fatto un casino nel primo concerto allegro andante vivece non troppo nel secondo concerto abbiamo allegro gli stesso tempo un poco maestoso e basta questi sono i i i cd che voglio ascoltare da qui fino a fine settembre e penso che li ascolterò un po' alla volta e più di una volta per il momento per 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 abituare il mio orecchio fine pubblicità progresso continuiamo con i libri che ho iniziato questo non l'ho iniziato per la vita lo devo iniziare scusa franci scusa fanciulli di Shirley Jackson la meridiana io ho di Shirley Jackson quella sulla fase infestata Hill House la volta che l'ho aperto l'ho chiuso alla velocità della luce e ho detto non è il caso di leggerla per cui stasera comincerò con questa meraviglia e vediamo dove mi porta poi devo cominciare con una cosa che volevo fare l'anno scorso ma non l'ho fatta ma va e si parla della storia che riguarda l'unità d'Italia ok e il primo libro da leggere è il congresso di Vienna di Guglielmo Ferrero Celeron e la ricostruzione dell'Europa 1814 1815 l'avevo letto ed è arrivata ho letto la prefazione anche qua la notte introduttiva anche qua che mi ho preso io non leggo male la notte introduttiva e adesso voilà poi anche beh è piaciuto Master Proust il primo libro more sto facendo un video more non può essere ecco sei qua ecco more sei lì e anche di questo ho letto la prefazione che devo ancora finire infatti siamo a pagina 27 vero? quante ci mancano stai già dormendo te stai già rotta le balle ok perfetto domenica sto dormendo fai le fuse amore fai le fuse si manca ancora questo pezzo per finire l'introduzione ma mi piace molto beh vi leggo la quarta di copertina per coloro che la ricerchia e nel mio gruppo di lettura l'abbiamo letta l'hanno letta tutta ne me che sono appena cominciato vero amore si quasi un preludio musicale all'intera ricerche dalla parte di suon introduci i temi cruciali dell'intera opera il senso del tempo la memoria il sogno l'abitudine e il desiderio si il desiderio andrà a dormire però Bea adesso deciditi perché io sto facendo un video amore della mamma ecco beh grazie molto gentile da lì è buona se no diventi famosa e poi ancora la gelosia il rapporto tra arte e realtà l'interagire di rituali ed emozioni il lettore fa conoscenza in queste pagine con i personaggi destinati ad accompagnarlo lungo i sette libri Odette Bloch François Charles Mentre la storia d'amore di Suon diventa quasi figura del contrastato l'apporto che legherà poi il narratore a Gilbert e Albert a Gilbert e Albert Per coltuna che questa fa spoiler di cui tu non capisci bellamente una massa perché ancora lo devi leggere per cui tutto bene ah le pagine è vero anzi tutti voi sapete il mio gruppo di lettura sa benissimo quante pagine siano tu il caffè mi è caduto il caffè sul libro non ditelo a nessun aiuto sono 471 pagine beh altro libro altro regalo altro libro che non ho anche questo lo voglio leggere assolutamente ma non l'ho ancora iniziato e non ho neanche letto la prefazione mi sono fissata con queste prefazioni non so perché mi sono girato mi sono alzato un giorno ho detto ma sì ho detto ma sì leggiamoci le prefazioni ma sì va e siamo all'uomo che ride di Vittor Hugo vi leggo la quarta di copertina casomai voi non l'abbiate letto dubito ma c'è che sono l'unica che non l'ha letto ma va bene nell'Inghilterra di inizio settecento un bizzarro vagabondo Ursus poeta e filosofo di strada raccoglie due scusate ma noi in questo paese abbiamo le persone che vengono a visitarlo per cui aspettiamo un attimo sono molto famosi soprattutto perché siamo vicini alla Svizzera operati nell'Inghilterra di inizio settecento un bizzarro vagabondo Ursus scusate un cellulare poeta e filosofo di strada raccoglie due orfani un ragazzino deformato nel volto da un perpetuo guigno e una neonata cieca e li educa l'avventurosa vita dei girobaghi il ragazzo Gwynplaine nasconde però un segreto e quando ormai giovane uova viene casualmente a conoscenza delle proprie origini il destino suo dei due compagni subisce una svolta imprevista romanzo dai tinte corti e dalle atmosfere gotiche scritte nel 1866 e nel 1868 se non l'avete mai detto vi dico anche di quante pagine è composto 684 devo leggere poi un libro che non so dove ho messo ma è la storia della Corea sono arrivata a metà e devo riprendere da un periodo storico che parte dal 1400 fino a poi arrivare alla guerra interna della Corea che poi ha diviso Corea del Nord e Corea del Sud e sì anche quello devo finire dopodiché altro libro altro regalo anzi mi ne manca anche uno e ve lo farò vedere nel prossimo perché mo mi devo alzare e la prenderò ci metto tutte le ore voi siete qui ad aspettare cosa non lo so di Antonio Moscatello breve storia del Giappone mi faccio io sono arrivata a pagina guardate tanto la bea fare fusa in primo capitolo ho detto devo leggere il capitolo 3 sono l'imperatore che spese una fortuna per una statua mi interessa tantissimo ma l'ho cominciato ma è ancora qua in tutto sono 381 pagine vi leggo però quello che c'è scritto qui nel caso nessuno abbia ancora letto il mio video e tu sei nuovo e se appena passo questo bel paccino sul feed se da un lato il paese del sol levante il sol levante non la miccia il paese del sol levante rappresenta nel nostro immaginario l'emblema della modernità e delle avanguardie tecnologiche dall'altro il fascino misterioso dei suoi tempi delle vicende di imperatori e samurai suggerisce una storia millenaria le cui tracce sono disseminate lungo tutto il territorio dell'arcipelago le epoche che hanno scannito la storia del Giappone avvicinandosi in un alternativo ciclico di chiusura e apertura verso il mondo esterno sono presentate i capitoli di questo libro in modo chiaro e sorprendente come faccio a sapere se è sorprendente visto che è la prima volta che leggo qualcosa sul Giappone cioè sulla storia del Giappone vabbè ideale per avvicinarsi a una cultura molto distante dalla nostra fino alle prime pagine il lettore sarà invitato a partire per un viaggio nello spazio e nel tempo quando ho letto spazio ho pensato abbiamo un problema quali spazio insomma aspetta e nel tempo che lo condurrà al fianco di mercanti e condottieri assassini ed esteti facendo test e filosofi un mosaico ricco e legato che vi conquisterà altro libro altro regalo di Belissa da Costa i quaderni botanici di madame e di questo libro sono arrivata devo leggere il capitolo 4 sono 294 pagine Bea 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 ti prego su fa la brava va bene che sei una diva ma non sei più diva di me sei buona e questo libro parla di una donna che ha perso il suo suo compagno suo marito in un incidente e siccome fa faticare prendersi decide di prendere in affitto una casa totalmente lontana di estragnarsi per un periodo e non vedere e non sentire nessuno e in questa in questa casa troverà i quaderni botanici di questa madame Lucie che cosa succederà ve lo racconterò più avanti ultimo ultimi due libri abbiamo di Jean-Oriot Caterina dei Medici con lei che ha insegnato ai francesi a usare le posate punto e ha insegnato anche un sacco di altre robe è un librone che ora non ha cosa come 25 anni giù di lì infatti vedete che è le cermitte massacrate ma poco e l'avevo già iniziato un tempo fa e anche qua devo reiniziare la 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 preparazione perché l'avevo iniziata ma non l'ho ancora finita e non mi ricordo dove sono arrivata andrò a vedere e sono ci sono circa sono che circa cosa è vadiano ma 732 pagine leggiamo la quarta di copertina per gli amanti della storia francese e italiana fiorentina nipoti di lorenzo magnifico e figlia del duca d'orbino caterina dei medici giunse nella sua lunga vita a sposare un re di francia e divenire madre di altri tre sovrani governando attraverso di loro per oltre trent'anni uno dei paesi più potenti d'europa grande protagonista di un secolo di splendori e di orrori caterina ebbe una vita avventurosa e tormentata moglie appassionata di un uomo che non l'amava e le preferì sempre altre donne disperstate dalla corte perché straniera e non di sanguare la grande regina seppe guidare la francia con un'energia e un'intelligenza divenute leggendaria tanto che è chiamata la regina nera sarà perché smagra? perché il nero sfina? vabbè vedremo la sua unica debolezza fu il morboso affetto che notiva per i figli nessuno dei quali fu mai alla sua altezza che novità un grave errore politico che le inimicò tutte le faccioni in lotta facendo da morire di dolore come un vero grande re bellissimo secondo me ultimo libro ma non ultimo perché io lo diamo tutti indistintamente anche qua ho cominciato la prefazione mieee Alcal Wild il ritardo di Dorian Gray questo colore è fantastico lo adoro anche tu lo adori? no? non lo adoro ok è qua la Bea possiamo vedere la cola? Bea ciao si lascia fare che fortuna se no dipenderei di quei morsi ragazzi aiuto sono 219 pagine comprese le varie spiegazioni delle parole dei vari capitoli ma la quarta di copertina recita quando nel luglio del 1890 sul Leaping Cots Monty Magazine anche questo l'avete visto in un altro video state tanto sì mi ripeto un po' e beh ti devi se ti devi vabbè possiamo perdere quando la Bea decidi di fare quello che vuole è inutile di no neanche ti ascolta dicevo quando nel luglio del 1890 sull'Emping Cots Monty Magazine uscì di Capri di Dorian Gray si gridò allo scandalo non ha fatto una figa nel preparare il romanzo per la successiva edizione in volume Oscar Wilde fu quindi spinto dalle furiose polemiche e dalle pressioni commerciali e legali a eliminare scene o battute sessualmente allusive e ad ampliare alcuni capitoli inserendo nella trama elementi melodrammatici e moraleggianti eppure quella pubblicata su Lippincott era una versione edulcorata del romanzo in cui i riferimenti di natura erotica o omoerotica erano stati censurati quello che qui si pubblica con un rettissimo apparato critico è il testo originale del decilo scritto inviato da Wilde alla rivista all'inizio del 1890 il Dorian Gray come l'autore lo aveva ideato si rivela una grande sorpresa oltre che più breve è un romanzo stai più audace e perturbante bene ragazzi questo è l'ultimo libro che devo finire di leggere sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici per la fine dell'anno oltre a quelli che avrei voluto leggere quest'anno e che non ne ho cominciato manco mezzo che pazienza ragazzi se è finito principessa signora niente ditemi nei commenti se secondo voi da quale libro dovrei iniziare perché sono indecisa e ho bisogno del vostro aiuto scrivetemelo sotto nei commenti ci vediamo al prossimo video che parlerà dei libri che ho in librerie che non ho ancora nemmeno aperto parte sei ciao a tutti e buona lettura